Ferdinando Priano, responsabile dei surgery di chirurgia ortopedica di Sestri, dico bene? Ospedale Padrantero di Sestri. Allora, professor Priano, ci concentriamo su due aspetti dell'ortopedia, cioè la spalla e la caviglia. La spalla è molto complessa per i movimenti che ha. Sì, direi di sì, specialmente nello sportivo. La spalla è una delle articolazioni che hanno una maggior quantità di problemi. Problemi di stabilità, problemi di rigidità. Quindi sembrerebbero due opposti che si indennizzano, invece si tratta proprio di due situazioni che molto frequentemente si associano e creano quella che viene definita la spalla dorosa del giovane e dell'anziano. Quali novità per intervenire sulla spalla, sia dal punto di vista chirurgico che protesico? Sì, la chirurgia della spalla ha avuto con l'artroscopia una grande diffusione. Oggi sono soprattutto i materiali e le modalità di attuazione di questi interventi chirurgici che permettono di effettuare suture tendine senza immobilizzazione successiva all'intervento, suture tendine in day surgery, ripresa dell'attività sportiva anche per atleti che utilizzano la spalla nell'arco di pochissimi mesi. Per esempio parliamo dei golfisti, sono forse quelli che di più hanno problemi di spalla? Esatto, allora diciamo che dobbiamo distinguere il golfista agonista, cioè il giovane, dal golfista un pochino meno giovane. È evidente che le problematiche sono molto diverse, il golfista meno giovane ha sostanzialmente delle problematiche di forza, il golfista giovane invece ha problematiche di eccesso di forza. I giovani utilizzano troppo i muscoli della spalla e si creano delle lesioni, i meno giovani per mancanza di forza si creano delle lesioni. Passiamo alla caviglia, quali novità ci sono e quali sono le problematiche più comuni? Allora diciamo che la caviglia è una delle articolazioni un pochino più vituperate negli sportivi. In effetti i calciatori frequentemente hanno delle grosse problematiche di legamenti e di cartilagine della caviglia ma sono diciamo problematiche che vengono abbastanza tollerate, un po' meno i pallavolisti e i pallacanestristi. Comunque in generale per quel che riguarda le problematiche della caviglia, le grandi novità sono nelle cellule staminali, ricostruzione della cartilagine o perlomeno parziale rigenerazione della cartilagine attraverso concentrati midollari, attraverso fattori di crescita. Sono interventi complessi, complicati? No, stiamo parlando tutta sia per la spalla che della caviglia di un tipo di chirurgia che si può attuare tranquillamente in day surgery e noi all'ospedale Padre Antero di Sestri e alla Montallegro naturalmente in maniera privilegiata vista la qualità della struttura della clinica Montallegro utilizziamo queste metodiche in trattamento day e one day surgery, cioè trattamento con dimissione immediata o trattamento con dimissione la mattina dopo al massimo. Grazie professore.